Bravate legate a qualche bicchiere di troppo, scazzottate, danneggiamenti, per due sabati di fila a Belluno qualcuno ha esagerato, Movida troppo movimentata, al punto che sul tema è intervenuto anche il prefetto Mariano Savastano, invitando i ragazzi a non lasciarsi andare a comportamenti che poi vanno per forza perseguiti, come il parapiglia in Piazzetta delle Erbe o i danni alla sede dell'ASCOM. Il problema non riguarda solo il capoluogo ma anche centri come Feltre o Cortina, tanto che la prefettura ha concordato con l'aiuto delle polizie locali e un aumento dei controlli settimanali. Il sindaco Jacopo Massaro ribadisce che Belluno è e rimane una delle città più tranquille d'Italia. Ovviamente qualche imbecille c'è sempre, quindi qualche imbecille che combina qualche guaio c'è, purtroppo è un qualche cosa che non si può eliminare radicalmente e che in tutte le città purtroppo capita, per fortuna noi sono sempre le stesse persone che fanno qualche danno di questo genere e questo ci rincuora perché vuol dire che non c'è un problema dilagante ma c'è un problema puntuale di alcune persone che regolarmente poi di solito vengono anche pizzicate ed individuate e sanzionate. Il maggior movimento, la maggiore vivacità che si riscontra in città dopo la fine delle restrizioni può anche causare qualche eccesso, ma che stia aumentando la circolazione di persone per Massaro rimane comunque un bene. Detto questo non abbassiamo la guardia, abbiamo parlato anche col prefetto, con la prefettura e ci saranno sempre controlli molto stringenti e molto attenti anche grazie alle tante telecamere che abbiamo installato in questi anni.